Il Mottetto Exultate Jubilate è stato scritto dal giovane Mozart durante il terzo viaggio in Italia a Milano per allestire l'opera Lucio Silla. Siamo nel 1773. Dice la didascalia della composizione Mottetto composto in Milano nel gennaio 1773 dal signor cavaliere Amedeo Wolfango Mozart accademico di Bologna e di Verona. Quindi era già stato in Italia gli anni precedenti ed aveva stato ricevuto in queste illustri accademie di dotti della musica. La composizione fu eseguita il 17 gennaio del 73 a Milano nella chiesa dei Teatini. Mozart l'aveva scritta per un cantante che era un famoso sopranista, cioè un cantante castrato, un evirato, che aveva appunto rappresentato un personaggio della sua opera Lucio Silla che Mozart conosceva, si erano già conosciuti a Monaco, si erano ritrovati lì a Milano. Quindi una voce facile, una voce oggi naturalmente la composizione è cantata da un soprano, un soprano anche con capacità di tendenza a salire appunto. Le voci appunto degli evirati avevano la facoltà di essere facili nella emissione, agilissime e con riscontri in tutti i registri. E' una composizione in stile teatrale, ecco la religiosità del brano di religioso, qui c'è il testo, che esultate, iubilate, anime, beate, ai vostri canti risponde il cielo e la terra e poi finisce con un alleluia. E nella seconda parte c'è una preghiera invece alla Vergine, ecco di sostegno per i mali della vita. Quindi la religiosità è nelle parole ma lo stile è teatrale. D'altra parte la musicoperistica e vocale italiana aveva invaso in questi anni tutti i generi. Si articola in quattro movimenti, quattro capitoli diciamo. Il primo è un allegro in cui si intona appunto la voce del soprano, intona exultate, iubilate, anime, beate. E' interessante notare che nell'orchestra ci sono due oboi che hanno figura di primo piano e dialogano quasi con la voce. Poi c'è un recitativo, cioè qui l'orchestra si riduce a pochi strumenti e la voce appunto parla, fulget amica dies, dove dice in sostanza che dove prima regnava la notte, ora ai giusti splende l'aurora. In stile di recitativo cioè la voce non canta in modo flessuoso ma sillaba, le parole in modo rapido, comprensibile. Poi il terzo episodio è un andante. Nell'orchestra spariscono gli oboi, restano soltanto gli archi. E questa è una parte, una preghiera appunto tu virginum corona, tu sei la corona delle vergini, alla Madonna e qui c'è una dolcezza, una curva melodica affettuosa tipica del primo Mozart, con armonie sensibili, simmetrie, grande eleganza, comunque grande tenerezza di sentimento religioso. E come quarto pannello abbiamo l'alleluia in allegro. Qui tornano naturalmente gli oboi a farsi sentire. Alleluia è la parola simbolo del giubilo alleluatico. E qui la voce si, già nel primo brano, ma qui soprattutto ancora di più, si sbriglia proprio nell'ebbrezza della sua agilità, della sua rapidità. Una voce sembra perdere ogni peso. Ecco, è proprio il significato suo, anche la parola alleluia che vuol dire soltanto giubilo, ma non c'è da entrare nei particolari, è una parola che è un suono e appunto fluttua libera. Proprio l'ornamento della voce, del vocalizzo per eccellenza, celebra qui il suo paradiso. Ecco, quindi anche se in uno stile operistico, è stato detto che in quest'opera la religione solo nelle parole, nel ragazzo che scriveva per il teatro, però anche nello stile operistico, direi che questo finale così luminoso, trionfante, basato sull'ornamento del vocalizzo, si accorda proprio col sentimento religioso del giubilo dedicato alla parola alleluia, che è tipico della tradizione ecclesiastica.